Adesso è la volta degli amici del quotidiano d'istituto del comprensivo di Fonzaso, diretto dalla professoressa Luisella De Bacco che non è con noi ma come aveva promesso il preside Graziano Baster che approfitto dell'occasione per salutare, i ragazzi erano accompagnati da altrettanti docenti estremamente carini e quindi ringrazio il preside per questa gentilezza che ci ha fatto, confermo in diretta. Però noi abbiamo anche un telegiornalista di quelli che si è fatto valere nella nostra attività del TG24, conosciamolo un attimino meglio, solo un breve saluto non ti preoccupare. Quindi il tuo nome? Corso Enrico. Che classe fai? Seconda media. Tu sei uno dei nostri telegiornalisti finalisti, insieme alla tua collega, come si chiama la tua compagna che purtroppo non è con noi? Gobo Desi. Per i vostri servizi che avete realizzato in merito alla palestra della vostra scuola e anche, mi sembra, un altro servizio su un altro argomento. Quale? Quello della scuola elementare. Quindi, poiché voi è un comprensivo, comprendete sia elementari che medie, giusto? Sì. Allora, tu te l'aspettavi che con questo video servizio potevi arrivare in una finale nazionale? Sinceramente no, perché ci sono talmente tante scuole che non pensavo che proprio noi fossimo scelti come finalisti. Beh, sei modesto, però comunque avete fatto un gran bel lavoro. E qui vi vanno i miei personali complimenti e di tutta il Boscuole. Grazie, vi auguro buon soggiorno a Chianciano e poi ci vediamo alla cerimonia di premiazione. Grazie. Grazie.